Lo circo quanto ti costa? Due appartamenti e due cinquanta. E poi i soliti spicci agli affamati. E' la teoria del mondo di mezzo, compa. Ci stanno come si dice, i visura e i morti sotto. E lo stavi in mezzo. Il mondo di mezzo, un film di Massimo Scaglione. Da maggio al cinema.